Dopo sette mesi di restauro, la tela Madonna del Rosario di Bernardo Castello torna nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo. Questo è stato veramente un recupero importante, non solo per aver recuperato la sua dimensione originale, ma perché era praticamente ormai illegibile. Cos'è che avete effettuato tecnicamente? Tecnicamente, essendo arrivato a noi con una struttura superficiale di grande fragilità, quindi la cosa più importante è stato quello di riconsolidare il colore, di dare consistenza sia al colore che alla tela originale. Posta precedentemente in un altare laterale, la tela è stata poi spostata negli anni sopra la sacrestia, dove è stata riposizionata oggi con un messaggio per i fedeli di preghiera e fiducia. Il messaggio della tela è un richiamo alla preghiera, l'affidarsi alla preghiera, affinché poi appunto la nostra vita sia una vita anche un po' salda, non imbalia magari troppo dei nostri eventi che possono in qualche modo a volte anche un po' confonderci, possono destabilizzarci. La preghiera ci aiuta a non perdere la fiducia e, come dire, anche dei riferimenti preziosi. Ad intervenire durante la presentazione del restauro della tela anche la dottoressa Alessandra Cabella, in rappresentanza della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia. I beni culturali delle chiese, in particolare, sono veramente un'identità. Non ci appartengono, ma ci rappresentano. Noi non ne siamo proprietari, il parroco, la diocesi, ma ci rappresentano, ci identificano, ci donano un valore identitario. Quindi potersene prendere cura, ognuno per il proprio carisma, quindi la parrocchia, il parroco, il consiglio parrocchiare, la diocesi, i restauratori e la soprintendenza, che è l'organo dello Stato preposto alla tutela.